Innanzitutto buongiorno, vi ringrazio, siamo tantissimi, tutto sommato in controtendenza rispetto a quello che invece sono i dati che ricaviamo dalle analisi dell'attenzione del pubblico sui temi ambientali. Vero è che siamo comunque un gruppo di specialisti o di soggetti interessati al tema. Lo dico perché in realtà noi come progetto abbiamo una sfida ambiziosa che è quella di provare a ridurre il gap, il deficit informativo e conoscitivo sui temi ambientali che emerge da tutti gli studi. Sono qui come parte di progetto di una società, faccio parte di Ares 2.0, una società che si occupa di comunicazione ma anche di analisi e ricerca su temi che hanno a che fare con gli aspetti, con gli ambiti sociali ed economici. Questa duplice attenzione ci consente di sviluppare campagne cercando di cogliere, di esaminare a monte quelli che sono gli scenari che sottendono i nostri interventi e la nostra operatività nell'ambito della comunicazione. Per cui vale la pena dare alcuni flash per capire qual è il posizionamento di questo progetto rispetto all'attenzione del pubblico. La rappresentante della Commissione qui dello Spazio Europa ci ha detto l'assoluta necessità di comunicare il tema dell'ambiente e di farlo emergere rispetto a tutti i temi di interesse comunitario. Il collega Ciccarese ci sottolineava il fatto come rispetto all'ambiente c'è un rumore di fondo di attenzione su macro temi che sono quelli diciamo mainstreaming, quelli su cui l'attenzione dei media si concentra di più anche per ragioni di prossimità. Il cambiamento climatico rispetto all'indagine di Eurobarometro è il tema su cui viene catturata di più la preoccupazione dei cittadini. In questa ideale classifica che poi è misurata su 28 mila cittadini europei il climate change è al primo posto seguito dall'inquinamento atmosferico, dal tema dei rifiuti. Gli aspetti che riguardano più specificamente il nostro ambito, cioè la tutela della biodiversità, degli habitat naturali emerge ma è già più sullo sfondo. Quindi questo è un primo elemento. Naturalmente l'attenzione c'è ed è una leva su cui noi intendiamo agire. C'è un'attenzione in generale sul tema dell'ambiente ma è declinata ed è come dire coperta soprattutto da grandi questioni che peraltro sono sicuramente anch'esse molto rilevanti. L'altra questione è che c'è un oiato tra la percezione di quello che sono gli effetti misurati rispetto alla propria identità. Adesso provo a spiegarlo. Una parte importante del pubblico, in questo caso degli italiani, su un'altra indagine sempre di Eurobarometro, dichiara di percepire già gli effetti del declino, del deterioramento del tema della biodiversità. Li percepisce già oggi, immediatamente. Questo è un nucleo di soggetti più attenti al tema del rischio, della perdita della biodiversità, del degrado ambientale, della perdita degli habitat. Una parte più consistente invece lo sposta in un momento a venire. Cioè la percezione c'è, come dire, sono attento al tema, però non è in questo momento, non si misura in questo momento il rischio, ma sarà un qualcosa che è distante, che magari sicuramente ci sarà, ma non è in questo momento la mia preoccupazione principale. Forse sarà dei miei figli o dei nipoti. Cioè la seconda maggioranza immagina, come dire, prende un po' le distanze rispetto a questo tema. L'altro aspetto che poi diventa chiave rispetto al nostro progetto è nel terzo punto, dove la gravità del deficit e della perdita di biodiversità e di estinzione di specie, di verdite degli habitat, è considerato molto grave dal 21% dei rispondenti nel momento in cui guarda al proprio intorno, al proprio territorio, guarda alla propria regione, diciamo, come dire, al proprio vissuto. Questa percezione però cresce molto nel momento in cui si pensi, si ragiona sul mondo. Anche qui è una presa un po' di distanza rispetto a quello che è, diciamo, la percezione. Cioè sento il tema ambientale, lo sento, dico che è molto grave, ma solo quando guardo molto lontano da me. Se guardo vicino a me, come dire, il tema della perdita della biodiversità e del degrado diventa, è sì rilevante, ma è meno importante. Questi sono, diciamo, degli elementi chiave che ci danno l'idea di come ci stiamo, diciamo, di qual è la percezione rispetto alla quale noi dobbiamo agire. C'è un oiato tra il vissuto e la gravità del vissuto e un'idealità di un rischio. Però il rischio è lontano, in qualche modo. Il massimo rischio è ancora percepito come lontano. È lontano nel tempo ed è lontano geograficamente. Mentre per alcuni, ovviamente, resta la percezione di una pericolosità e di una preoccupazione, ma è un gruppo minoritario. Arrivo, dunque, diciamo, poi a quelli che sono alcuni elementi chiave su cui poi precipita tutta la nostra discussione. Gran parte degli europei non sa assolutamente nulla su Rete Natura 2000, cioè sulla rete, potremmo dire, del sistema di biodiversità della porta accanto. Noi abbiamo, in qualche modo, abbiamo in Italia 2.700 siti, quindi uno ogni 20.000 persone, però sono completamente sconosciuti. Oltre il 90% degli italiani, di fatto, non ha mai sentito parlare del sistema Rete Natura 2000. Ci sono questi elementi, diciamo, anche contingenti sul fatto che si tratta di micro aree rispetto alle quali, come dire, anche sul piano amministrativo, sul piano anche comunicativo, c'è stata forse nel tempo un po' di confusione anche in termini proprio di naming, cioè di attribuzione di etichette precise. sono SIC, sono ZPS, sono, dicevamo anche, li confondevamo con la zona a traffico limitato, la ZTL, non si capisce più se stiamo parlando di quale zona stiamo parlando, però c'è anche una certa confusione nell'identificare queste, diciamo, queste entità, che però sono le entità più vicine a noi. Cioè, abbiamo visto nel Lazio, pesano per il 17%, proprio qui nel nostro intorno abbiamo una ricchezza di aree di biodiversità di cui noi, di fatto, non ne siamo a conoscenza, dico noi come cittadini normali. Quindi questo è, come dire, la sfida fondamentalmente. L'altra sfida è il terreno mediatico su cui andiamo, come dire, a inserirci. Se dobbiamo fare comunicazione, naturalmente i canali, i media, sono la leva che utilizziamo. Anche se poi il progetto in realtà è andato ben oltre la leva dei media, perché di fatto ha scelto di utilizzare il mezzo, bicicletta, come lo strumento attraverso cui dare corpo alla comunicazione. Quindi scendiamo nel territorio, proviamo a ritracciare, a rinodare il legame tra, la popolazione e il proprio territorio attraverso il percorso ciclistico, quindi un percorso sostenibile, un mezzo sostenibile, che riannoda e dà anche un'idea di prossimità rispetto al tema. Naturalmente, diciamo, accanto al percorso ciclistico c'è, come dire, il presidio dei media. Sempre le fonti europee, che danno indicazioni su quello che è il tema della informazione, ci dicono che sui temi ambientali la televisione ancora continua ad essere il soggetto chiave. Naturalmente, vedete questi dati nella parte più bassa, c'è un'indicazione chiara di come in realtà il dato medio ormai va visto, deve essere letto più facendo riferimento alle classi di età, laddove nei ragazzi fino a 24 anni è internet, diciamo, il luogo elettivo e i social in particolare, il luogo dove si forma la consapevolezza attorno al tema ambientale. In ogni caso, noi, diciamo, come scelta progettuale, poi abbiamo saltato il tema televisione come strumento per ragioni, come dire, anche di opportunità e di possibilità nel presidio e, diciamo, come chiave di intervento faremo soprattutto leva sul tema dell'internet e dei social. Alla luce di questa, diciamo, breve sintesi su quello che è lo scenario, su quello che è lo sfondo abbiamo declinato una strategia di comunicazione, una serie di interventi sulla base, diciamo, di una... abbiamo fissato alcuni paletti, alcuni interventi chiave attorno al quale far ruotare la nostra campagna di comunicazione e i nostri interventi. Prima di tutto, il viaggio in bici è già il cuore dell'attività di comunicazione, è un modello di comunicazione non convenzionale, diremmo. Alcuni, diciamo, più giovani lo potrebbero chiamare guerriglia marketing. Sono delle forme, come dire, di comunicazione che assumono una veste non convenzionale, però il passaggio in bici è già una testimonianza di un messaggio che vogliamo dare, che è quello di una, diciamo, di una riacquisizione dell'idea, diciamo, dell'importanza della biodiversità, di prossimità e del viverla direttamente attraverso l'uso della bicicletta. Questo era l'elemento chiave. Naturalmente il corredo di interventi poi si alimenta di un set di interventi che sono quelli tipici di una strategia. In questo caso, ripartendo dall'elemento territoriale, faremo molto leva su temi, su, diciamo, modalità di relazioni istituzionali e incontri one to one. Diciamo, è previsto, nel passaggio della carovana ciclistica, prima, durante e dopo, sono previsti una serie di incontri con tutti i soggetti che riteniamo sia utile, e, diciamo, attenzionare rispetto alla crescita di una sensibilità diffusa sul tema della valorizzazione di questo sistema di biodiversità, di prossimità, che è costituito da Rete Natura 2000. L'altro è quello, diciamo, l'altra componente è quella dell'eventistica. Oggi è un primo esempio. Comunque faremo una serie di incontri a livello territoriale, proprio per rimettere a sistema la visione che i territori hanno rispetto al loro sistema di reti naturali. E, diciamo, oltre a questo impianto di interventi, come dire, di prossimità di campo, abbiamo una forte volontà di presidiare i canali web e il canale social. Questo è ovvio, ovviamente scontato. Lo faremo e lo stiamo facendo con una, diciamo, attenta lettura di quello che è il contesto dei vari strumenti social che utilizziamo. Per cui, attualmente, nel momento in cui si affronta una strategia di comunicazione sui social, bisogna ragionare in termini di chi sono gli influencer che presidiano il terreno social. Cioè, chi sono quei soggetti che sono più in grado di assorbire i nostri messaggi e di ridiffonderli. Ma anche come è costruito il pubblico, diciamo, dei contesti social verso cui noi agiamo. E su questo faremo un utilizzo mirato di advertising, di pubblicità via social o attraverso il search advertising, che sono, diciamo, le pubblicità sui motori di ricerca, sulle parole chiave. Rispetto al tema dell'advertising, vale la pena sottolineare come ne abbiamo anche traccia in questi ultimissimi giorni rispetto allo scandalo di Facebook, di Cambridge, che è analitica, dove appunto i social consentono di profilare in un modo, scusate, questo lampeggio, potrei quasi, come dire, lasciare questo, che forse suona meglio, anticipando quella che è poi la campagna visual del progetto e in generale il tema principale della creatività. Comunque, tornando sulla questione dell'uso dei social, Internet e i social network ci consentono attualmente di profilare in dettaglio la natura dei soggetti che sono presenti sui social network. No, dicevamo, sull'uso dei social, la polemica in atto su Facebook è che Facebook è in grado di profilarci in modo molto mirato. Questa è un'attività molto scoperta. L'advertising consente di identificare i soggetti che abitano nell'intorno di questo punto per un chilometro che hanno un titolo di studio e sono interessati alla bicicletta, per intenderci. E ci consente di veicolare un messaggio informativo sotto forma di advertising che mira appunto il nostro contenuto promozionale a quel target. Quindi noi faremo, stavo diciamo per concludere la parte, come dire, adesso un po' di scenario strategico. La nostra attività si concentrerà quindi su un presidio di canali digitali. Sarà realizzato in primo luogo attraverso una campagna creativa che è qui descritta, diciamo, in uno di quelli che sono i contenuti creativi principali dove il tentativo è stato quello di provare a rappresentare con una sola immagine quello che è il senso della nostra iniziativa che è fondamentalmente valorizzare attraverso un mezzo che è l'uso della bicicletta e il fine di far conoscere, diciamo, la natura e il valore della natura nei suoi aspetti più salienti. Deve coniugare, diciamo, la presenza dell'uomo ma anche il valore delle aree incontaminate per cui abbiamo varie immagini che richiamano sempre il tema scusate, per esempio questa era un'altra, insomma, che abbiamo utilizzato per il web adesso torno indietro rapidamente anticipandovi quello che poi vedrete. Questo messaggio è accompagnato da un claim che anche qui deve Rete Natura, l'ambiente si fa strada è un po', diciamo, il messaggio chiave della campagna è giocato ovviamente sul tema del percorso in questo caso la strada è la strada ciclistica insomma il richiamo è evidente e l'immagine è forte, insomma, è piaciuta un po' a tutti il nostro direttore creativo si è sforzato a lungo per trovare che è Guido che qui è lui l'autore, visto che c'è una componente importante di lavoro proprio di cercare quali erano i messaggi che funzionano di più naturalmente gli strumenti, diciamo, della comunicazione online ci consentono di testare l'efficacia dei messaggi nel senso che qualunque immagine determina una reazione, un feedback, un coinvolgimento, un engagement immediato e stiamo notando che questa immagine sulla rete gira bene, funziona, viene ripresa, richiamata e sta suscitando quello che volevamo diciamo un'attenzione forte da parte del pubblico che inizia a identificare quello che è il tono e il senso della nostra iniziativa questi materiali, questa creatività si informerà tutti i canali digitali abbiamo intravisto prima il Twitter, YouTube, il sito e quant'altro e poi si articola in un'altra serie di prodotti più per quelli che sono definiti gli ambiti below the line cioè tutti i materiali cartacei, le brochure, gli adesivi i poster e quant'altro declinata in varie forme queste possono essere cartoline qui c'è il logo dell'iniziativa possono essere i materiali su cui connoteremo il nostro intervento lasciando ad esempio nelle scuole brochure, poster o adesivi da mettere in giro sperando di non sporcare l'ambiente questo era un altro modello di campagna un altro studio di campagna con un altro claim che però qui è il valore il senso di questa seconda campagna è quello di promuovere più che il messaggio istituzionale di Renatura gli interventi sul territorio si declina infatti si declinerà per regione il Lazio 12 tappe 21 comuni 490 km con una cartina puntiforme dove è sottolineato appunto la presenza geografica questo diventa un materiale che accompagna i lanci dei percorsi assieme alla campagna istituzionale naturalmente il tutto poi viene verificato in diretta diciamo così rispetto alla capacità di catturare l'attenzione del pubblico sulla base appunto dei feedback che riceviamo immediatamente dai tassi di engagement cioè di coinvolgimento e di attenzionalità online in questo è un elemento utile per chi fa questo tipo di lavoro perché ha immediatamente un riscontro dell'efficacia di un messaggio piuttosto che di un altro i canali la presenza sui canali la stiamo iniziando a popolare adesso quindi naturalmente abbiamo una presenza su Twitter una presenza su Facebook poi lasciamo gli indirizzi rispetto a Facebook vale la pena dare un flash proprio per capire la forza di questo strumento siamo profilati su Facebook lo dicevo prima 34 milioni di persone sono nel circuito Facebook Instagram di questi 14 milioni sono identificate e raggiungibili con un messaggio di pubblicitario a pagamento mirato sono 14 milioni sono interessate alla natura in senso lato ovviamente è una diciamo un'area di interesse generico che Facebook ritrae sulla base di alcuni comportamenti pagine visitate gradimento like a contenuti che sono diciamo identificati come contenuti che hanno a che fare con la sfera natura fatto sta che c'è un'area di interesse diciamo attorno al 40% di soggetti che su Facebook hanno un'attenzione rispetto alla natura questo è un macro aggregato però è interessante come per esempio sul tema della biodiversità ci sia un nucleo di 500 mila persone che per una serie di comportamenti che Facebook riscontra in modo piuttosto analitico non è generico cioè si tratta di specifici attività che facciamo sulla rete che consentono per esempio di rivendere i nostri dati da parte di Facebook anche a una società che fa analisi di orientamento politico come è quello che è accaduto però contro diciamo in qualche modo andando oltre quelle che sono i limiti dell'uso della privacy di Facebook per questo c'è lo scandalo però per il mercato pubblicitario questo tipo di informazioni sono disponibili a tutti e noi le possiamo utilizzare per veicolare dei messaggi specifici a una tipologia di soggetti naturalmente quei 14 milioni noi potremo filtrarli negli intorni di 20 chilometri rispetto alla nostra tappa principale di Viterbo o di una qualunque posto dell'Italia magari identificando mirando ancora di più a quei soggetti che hanno una determinata classe di età un titolo di studio che ci può interessare o anche un ambito professionale per esempio tutti gli amministratori pubblici che lavorano diciamo in un intorno geografico questo per dire come poi la strategia di presenza social di presenza online che viene fissata con l'elemento del contenuto creativo deve trovare poi una diciamo stiamo chiudendo con il tempo quindi vado rapido deve comunque trovare un target preciso e deve cadere nel modo più efficace questo sempre al fine di suscitare attenzione sui percorsi creare quell'attenzione forte sul tema della biodiversità e sul tema di Rete Natura 2000 che come abbiamo visto all'inizio è ancora tutto da costruire questo ci facilita perché siamo come dire un po' all'anno zero rispetto a questo tematismo e quindi abbiamo come dire una prospettiva di crescita tutto sommato interessante questo vabbè il mondo twitter non è un mondo di grandi numeri ma è un mondo di piccoli soggetti che hanno un potere come dire forte di catturare l'attenzione sono soggetti specializzati della comunicazione da segnalare come Ispra è un grande influencer sul tema ovviamente dell'ambiente cioè molto seguito da soggetti che sono molto seguiti sul tema dell'ambiente quindi come dire in questo caso come gruppo di lavoro siamo molto avvantaggiati da questa presenza forte da questa riconoscibilità forte che l'Ispra ha fatto questa era la pagina questa era la pagina Facebook chiudo con alcuni obiettivi apparentemente ambiziosi vogliamo raggiungere un milione di cittadini con la comunicazione online e offline questi sono i reach si tratta di una raggiungere questi numeri non è impossibile è importante però cercare di catturare l'attenzione e suscitare una reazione vogliamo coinvolgere 10.000 cittadini ciclisti nelle 100 tappe anche qui è un obiettivo alla nostra portata sia pure diciamo comunque c'è molto lavoro di comunicazione e anche di rete incontreremo gli alunni delle scuole anche qui grandi numeri ma insomma si tratta di presidiare per ognuno dei percorsi degli incontri con le scuole già previsti poi vabbè questo è un micro obiettivo perché abbiamo dei prodotti specialistici che vorremmo che fossero veicolati e fossero scaricati e fruiti questi poi sono gli obiettivi progettuali insomma abbastanza sfidanti per usare questo termine diciamo un po' mutuato dall'inglese però su cui effettivamente dobbiamo almeno dobbiamo provare ad avvicinarci per dire che il progetto poi potrà aver lasciato un po' il segno e poi vogliamo portare adesso un numero piccolo 140 attori del territorio questo è un altro dato un po' come dire un po' una bandierina però non è una diciamo una presenza attiva vorremmo coinvolgere una serie di soggetti negli eventi che sono effettivamente portatori di contenuti e di interessi specifici e che possano effettivamente alimentare quella diciamo quell'idea di creare una rete di connessione tra i soggetti del territorio che hanno un ruolo decisionale a tutti i livelli dal politico all'associativo o anche all'imprenditivo che è un altro degli elementi importanti di cui poi verrà data traccia dopo perché chiudo con questo per lanciare anche l'intervento successivo il progetto non è solo un progetto per far crescere la consapevolezza sull'importanza della biodiversità ma per immaginare come nel secondo quelle che sono le indicazioni dell'Europa immaginare dei percorsi che vedano il convolgimento di tutti gli attori del territorio comprese le imprese per favorire dei processi diciamo di crescita il più possibile virtuosa e non distruttiva è come dire sempre questo un obiettivo duplice e difficile ma noi speriamo di raggiungerlo questi sono gli indirizzi e quindi vi ringrazio e lascio la parola al partner successivo grazie